Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale. Questa sera torniamo a parlare di Topolino. Lo facciamo col numero 836, che ho trovato nell'otto, che ho recuperato la scorsa settimana, che comprendeva tutti i numeri dall'800 all'899. Questo numero, in parte, lo avevo mostrato perché, sfogliando in maniera sommaria questi albi, avevo scoperto che conteneva al suo interno una storia che riprendeva un film di animazione della Disney, ossia i Rissogatti. Con mio grande supporto ho scoperto che già negli anni 70, sul Topolino vi era la consuetudine di contenere il fumetto, diciamo, la storia e fumetto del film di animazione che sarebbe uscito quell'anno. Cosa che avveniva nei miei tempi, nei miei tempi degli 80 e 90, per esempio con La Sirenetta, La Belle e la Bestia, Aladdin, Pocahontas, Il Re Leone e così via. In questo caso, invece, troviamo gli Rissogatti. Vi farò vedere un po' la storia e ve la racconterò sommariamente con i punti di incontro che sono molti col cartone animato, ma anche qualche differenza che dia rispetto ad esso. E ne approfitterò anche per mostrarvi all'interno, in maniera più dettagliata, un albo di questa fascia, che è il primo che effettivamente vado a leggere, ho letto in realtà oggi, e che quindi volevo farvi vedere. Allora, la copertina è di Tony Strobl, con Matite e Larry Meyer, quindi in un contesto in cui la maggior parte di esse erano state disegnate da Giuseppe Perego o da Franco Lostaffa. In questo caso, invece, troviamo una copertina di produzione americana, quindi con un paperino, con questa armatura medievale, con uno sguardo tra il fiero e un po' lo stupido, l'idiota, e i nipotini che, in maniera molto brillante, decidono di pulire questi strumenti. L'albo costava 150 lire, il numero 836 è uscito il 5 dicembre 1971, chiaramente dalla Mondadori. In seconda di copertina troviamo tutti i crediti e anche l'order del garingramma e l'azienda, partì Mario Gentilini direttore, Elisa Penna, il redattore capo, e poi i vari redattori vice, tra cui lo stesso Capelli, Codenzio Capelli che prenderà il posto di Mario Gentilini, e i vari collaboratori, tra cui chiaramente Scarpa, Cavazzano, Guido Martina, Ide Vita, Pavese, Scala, Gatto e così via. E poi parte subito la storia dei suoi gatti, però notavamo l'altro giorno come in realtà questi albi avessero l'indice, che però era alla fine, il sommario. E in questo caso troviamo 5 storie, Ieri Sogatti, Ezechiele Lupo, Le Mille Uova Blu, Super Pippo e Le Super Arachidi e Super Fiacche, Zio Paperone e La Soluta Impreveduta, Zio Paperone e La Favola di Mamma Oca, Paperinich e La Scuola del Crime, nella seconda puntata, in realtà sono 6. Le rubriche varietà e giochi. Allora, iniziando dalla storia, che ripercorre più o meno per file e per segno il cartone animato, di cosa parla? Abbiamo all'inizio del Novecento, questa donna, che è una cantante lirica in pensione, che non ha famiglia, che decide di far testamento e assegnare tutti i suoi veri, essendo una persona benestante, prima i suoi gatti e successivamente al suo maggiordomo Edgar, il quale non la prende molto bene perché pensa che ciascun gatto vive almeno 12 anni per 7 vite, quindi di fatto non potrà mai subentrare ad essi. Così decide di farli sparire, finiranno in campagna, lì verranno in seguito a una serie di avventure aiutati da un altro gatto, che si chiama Romeo, che li riporterà a Parigi. Per la cronaca, questi gatti sono Duchessa, che è la madre, che ha tre cuccioli, che sono Minou, Bizet e l'altro si chiama Matisse, che appunto sono i gatti di questa donna. Tra l'altro, in questo caso, sia la cucciola che la mamma, Duchessa, hanno questo colore arancione, ma in realtà nel cartone nato sono bianchi e anche gli altri gatti hanno un colore diverso, quindi questa è una differenza rispetto al colore originario. Troviamo anche altri comprimari, tra cui Groviera, questo topolino, loro amico, Frufru, che è la cavalla, che si vedrà all'inizio e si vede anche alla fine, e che avrà anche un ruolo decisivo. E poi soprattutto Romeo, perché cosa succede? Questa famigliuola viene abbandonata da Edgar in seguito a un inseguimento di cani nelle campagne di Parigi, e questo Romeo, che è un gatto irlandese originariamente, ma che nella traduzione italiana è un romanesco, con la voce del grande Renzo Montagnani, decide di accompagnarli a Parigi. A Parigi però conosceranno, tra l'altro, una serie di gatti randaggi, qui ovviamente abbiamo altre scene, che non vi racconto, ma che sono simili a quelle del cartone animato, a parte la presenza dello zio Reginaldo, perché si trovano queste due oche, ma non lo zio Reginaldo, altra differenza, chi ha visto il cartone animato sa di cosa parlo, e arriveranno a Parigi, presso questa casa in cui si trova questo gruppo di gatti randaggi, amici di Romeo, presso cui dormiranno una notte. Il giorno dopo si presenteranno a casa, Edgar li troverà e deciderà di chiudere nuovamente questi gatti in un sacco per mandarli a Timbuktu. Ma la collaborazione di tutti i comprimari pisti in precedenza, ossia Groviera, Frufru, lo stesso Romeo, e i gatti randaggi avvisati da Groviera, riusciranno a neutralizzare Edgar, che finirà poi a sua volta a Timbuktu. E quindi si chiude la storia con Adelaide, ossia la donna, la cantante lirica, insieme al suo amico Giorgio, il suo avvocato, affacciato alla finestra, in quanto la sua splendida villa è diventata una fondazione che ospita tutti i gatti randaggi di Parigi. Il racconto è molto simile a quello originario, però per esempio le canzoni sono molto più stereotipate rispetto a quelle della traduzione italiana. Il famoso Io sono Romeo, il meglio il Colosseo qui non c'è, così come anche tutti quanti vogliono fare il jazz. Ripeto, chi ha visto il cartone animato sa di cosa parlo. Però è un'ottima trasposizione. All'inizio pensavo che fosse uscito poco prima del film in modo che potesse presentare esso stesso a chi poi sarebbe andato al cinema. In realtà il film è uscito nel 1970 negli Stati Uniti a dicembre. Tra l'altro è stato l'ultimo film seguito almeno all'inizio da Walt Disney che poi scomparirà il 15 dicembre del 66, quindi molti anni prima, ma che aveva avuto modo di iniziare a guardare un attimino a questa realizzazione e arriverà in Italia il 13 novembre del 71, quindi circa 20 giorni prima di questo albo. Perché? Perché effettivamente, ripensandoci, non ha senso che il topolino vada a spoilerare di fatto il film, anche se poi tutto di produzione Disney. Anche perché anche ai miei tempi le produzioni arrivavano a novembre, ma poi era costruire i genitori a accompagnare i bambini nel periodo di Natale a vedere questi film. Comunque, questo è quanto. Poi vediamo un po' di pubblicità. Belinda, Zecchino d'Oro, Se lo sai rispondi, quindi delle rubriche di Paperino, quiz vari, pantaloni d'asci di Topolino, queste belle fotografie ambientate che hanno come sfondo delle porte monumentali di Roma, quindi foto molto anni 60, primi anni 70, siamo al 71. Il mago Silvan è giovane, l'avevi trovato anch'io vent'anni dopo, Natale con le favolose bambole Italo-Cremona, altri giocattoli e poi Zecchiele Lupo e le mille uova blu. Anche questa è una storia di produzione americana, come la prima, fa il verso nel titolo italiano alle mille bolle blu di Mina e in sostanza Zecchiele cercherà prima di catturare i porcellini e poi le uova di Compare Orso dipingendo tutto di blu, ma chiaramente verrà neutralizzato. Cine Proiettore Mini Cinex Films a colori e Walt Disney, la macchina da cucire e singere per bambine, Fisher Technic, questa è una specie di Fisher Price antelitteram, e poi altri giocattoli, cui Paperino Quack, quindi è Paperino che risponde ad alcune domande, quindi sostituisce in parte, io so quasi tutto, del Pippo e del primo Topolino, rubrica di Pippo, qualche altro giocattolo particolare, Peggy Pen Pell, vabbè, le barzellette di Sansone, che ci sarebbero state anche ai miei tempi, poi altri giocattoli, comunque giocattoli da, o che sviluppavano la mente, o che facevano stare all'aperto, d'altrò nel 71 non c'era internet, non c'erano, c'erano anche ancora pochi televisori, tutto sommato, quindi si faceva molto più vita all'aperto, costruisci un antifurto e una radio, un suono, un antifurto e una radio, questa è una cosa pazzesca, poi Super Pippo e il Super Arachidi, Super Fiacchi, e le Super Arachidi e Super Fiacchi, e questa è di produzione americana, questa è una bella storia, interessante, e Pippo non è stupido come sembra, perché anzi, quando diventa Super Pippo, ha notato che comunque è anche, non dico intelligente, ma è comunque sensato come personaggio, in sostanza viene chiamato, perché vi sono una serie di rapine, ma non riuscirà a volare per tanto tempo, perché le sue Arachidi è come se avessero perso il loro contenuto, infatti, uno di questi delinquenti, ha capito da vi abita Pippo, che ha spruzzato uno spray, che fa perdere le, si è chiamato infiaccatore, fa perdere praticamente i poteri nutrizionali, diciamo così, agli Arachidi di Pippo, agli Arachidi di Pippo, ma lui si ricorda che ne ha piantate, un tot in un'isola vicino a Topolinia, e così si reca lì, e scopre che addirittura questi Arachidi sono migliori di quelli di Topolinia, e così ne utilizzerà tutti, storia interessante, addirittura sparano a Pippo, ma non gli succede niente. Poi, Enciclopedia Disney, questo è un buono per questa enciclopedia, per prendere uno dei volumi, l'avevo mostrato l'altra volta, Disegni e parole nelle foglie, qui è un gioco in cui viene spiegato come mettere la cazza assagnola intorno a delle foglie, per poi scrivere sostanzialmente, creare delle scritte. Ovviamente un bel fucile Winchester, e poi vita per il club di Topolino, vita nuova per il club di Topolino, quindi qui sono vari premi assegnati ai vari club di Topolino, che ormai li hanno diventati istruzionalizzati. Riva Rossi Treni, che avevamo già trovato più di dieci anni fa, nel famoso concorso Riva Rossi, Cronaca di Topolini ha riservato ai collaboratori, quindi disegni e le foto degli appassionati, quindi questi ci sono sempre state, fin dai primi tempi, e qui abbiamo il bollino, il club di Topolino con 50 punti. Cine prese, perché in questo numero soprattutto ce ne saranno tantissime tutte le salse, nonché bambole varie. E poi qui abbiamo un'altra storiella, questa è molto piccola, Zio Paperonella è seduta impreveduta, in pratica Paperino dorme, e questo suo sonno verrà contagiato anche a Paperone. Serenella furga, qui abbiamo altri cine prese, altri mezzi bellici chiaramente, guardate che bello come si sfoglia questo albo, tutto assolutamente in tonso, bianco, pulito, ovviamente non sono lì a guardarlo tutti i giorni, lo metterò a suo posto. La segretaria per tutti è una rubrica di Paperina, che era sostanzialmente quello che poi sarebbe diventato se lo sai rispondi, quindi una sorta di posta per comunicare fra appassionati che volevano magari scambiare qualcosa. La Graziella, fratellino, motocross elettrica, altra pistola, le città nascose, quindi queste sono delle, diciamo, dei giochi. Dolce Forno, questo è simile a quello che ci sarebbe stato poi successivamente ai miei tempi, non ricordo come si chiamava, però la marca è la stessa. Altre bambole, e qua vari giochi, ovviamente pistole, fucili di precisione, telescopi, binocoli, aerei, comunque sempre roba un po' di guerriglia, ovviamente ci ne prese. Zio Paperone è la favola di Mamma Oca, anche questa è la produzione americana, è una storia un po' così, molto naif, in cui troviamo Archimede che sta brevettando una macchina chiamata Phantom Acchina per vivere praticamente nel mondo delle favole. Paperone invece vorrebbe guadagnarci qualcosa, e alla fine, all'interno di queste favole, troveranno delle uova d'oro, e Paperone farà di tutto per cercare di portare con sé questa oca che praticamente produce queste uova. Sulla terraferma poi avrà tutta una serie di problemi, una storia, come vi dicevo, appunto un po' surreale. Al nonno Mondadori Editori, quindi questi sono vari cataloghi di libri che venivano dati con la Mondadori, che si potevano ottenere, qui finisce la storia, e qui abbiamo dei modellini giocattoli di telefoni, mi ricordo mia nonna aveva questo, ovviamente quello vero, e ricordo anche questo, siamo nei primi anni 70. Puzzle, degli spartiti, dei dischi, insomma, per suonare la Bontempi, la pianola, Salvador Gotta risponde, Salvatore, queste sono delle domande fatte a un esperto, quindi curiose, quanto può vivere una rondine, quali sono i romanzi di Salgari, il ciclo di Sandokan, eccetera, eccetera. Sottomarini nucleari, questa Porsche, ne aveva un modello simile io negli anni 80, però era una Lamborghini, arancione, mi ricordo, Barbie, Mattelli, 1971, qua ci sono i vari punti vendita, tra cui anche Palermo e Bologna, chiaramente, essendo grandi città, Coppa del Mondo Ski, di Topolino, che Topolino ha sempre avuto questo legame alla Coppa del Mondo di Ski, non so per quale motivo, tra l'altro, nel 66, sarebbe dovuto avvenire Walt Disney, che poi morì, era atteso in Italia, altri giochi, Dame, cose varie, Topolino, e poi l'ultima storia, di Guido Martina, e Massimo De Vita, Paperinic, la scuola del crimine, seconda puntata, c'è un riassunto della prima parte, sono stato un po' interdetto, perché non l'ho letta, poi alla fine ho capito un po', comunque. in sostanza Paperone trova una mappa, che ha dei codici, che poi è da interpretare, appartenuta a un criminale morto, che permette di trovare un suo bottino a 2 milioni di dollari, quindi Paperone decide di farla interpretare ad Achimede, ma avrà i scagnossi di questo criminale morto, alle calcagne, che vorranno ottenere a loro volta questo tesoro. E quindi troveremo una storia con rapimenti, perché verranno rapiti sia i nipotini, Paperone stesso, nonché Paperino, verranno lasciati a digiuno, verranno puntate alle armi contro, per far confessare questa formula, e Paperino, attraversendosi da Paperinic, riuscirà a liberare tutti, a sgominare la banda, e addirittura a consegnare il denaro a Paperone, come regalo, e tra l'altro un enigma prevede anche la risoluzione di un termine in latino, a testimonianza del fatto del vecchio lavoro di Guido Martina, che era insegnante di lettere alle superiori, e quindi è una storia violenta, perché comunque ci sono rapimenti, omicidi, già inizia l'incipit con un criminale morto, pistole vengono puntate, armi varie, insomma una storia comunque cruda, Paperinic che poi non è il Paperinic che siamo abituati a conoscere noi, che avevo già conosciuto negli anni Ottanta, è molto più scaltro, è molto più furbo, e quindi è una storia sicuramente di livello alto, la migliore dell'albo, anche se la seconda parte leggerò la prima, e quindi si vede la mano di Guido Martina. E niente, poi abbiamo il sommario, che vi ho fatto vedere all'inizio, questa pista di macchine, e poi in quarta di copertina questa cosa interessante, è una sorta di estrazione, a cui possono partecipare i bambini, e vincendo appunto, venendo estratti, potranno scegliere uno di questi tre volanti, per auto di lusso, per auto sportiva, per autobomba, da regalare al papà. Infatti, vedevo questa immagine, con questo uomo che guidava così, senza volante, non capivo, e poi sono riuscito invece a interpretare tutto. Quindi si poteva far vincere un volante, chiaramente così, a tre razze, senza airbag, allora esistevano, ma non erano comuni alle macchine, sarebbero arrivati negli anni 90, da dare al padre, da regalare al padre. Questo è quanto.